Speriamo di arrivare lo più pronti possibile per la partita, dobbiamo farlo bene nella Coppa Italia, lo abbiamo tra più o meno un mese, quindi sarà un esordio duro e le altre partite anche, quindi sarà un inizio del campionato difficile e dobbiamo essere pronti per farlo bene. Si inizia l'Olimpico, l'anno scorso abbiamo iniziato l'Iventus Stadium, quindi diciamo che siamo abituati agli scogli importanti, l'anno scorso andò benissimo, che partita magari ti aspetti? Perché la prima è sempre un po' una variabile impazzita, la Roma ha anche l'impegno in Champions, quindi è sicuramente una partita così un po' dai mille pronostici. Sì, sì, adesso non sappiamo come può andare, magari sappiamo già subito, però speriamo, come ti ho detto prima, di arrivare lo più pronti possibile, così fare un bel esordio e poi continuare a non fare quello che abbiamo avuto l'anno scorso, che abbiamo vinto contro la Juve e poi abbiamo avuto dei risultati incontro, quindi speriamo in questo inizio della stagione farlo bene. L'ultima battuta che ti faccio, avevi detto Empoli per la prima giornata, è la seconda però è la prima in casa, quindi qualcosa hai assolutamente azzeccato, lì volete fare bella figura perché è vero che cominciamo in Coppa Italia con i nostri tifosi, però sappiamo che insomma al campionato bisogna subito mettere il piede giusto, la gamba giusta, soprattutto magari trovare anche qualche tuo gol, perché no? Sì, sì, stiamo lavorando tutti per quello, per essere lo più preparati possibile, quindi solo è questione di tempo, continuare a prepararci, così i risultati vengono da soli.